È Vivi ancora. Sì? Sì, tiene come un momento. No, si è importante. Vivi e tiene una buona saluta. Si chiama Omar e él... él trabajaba con Hemingway quest'anno. Voglio realizzare una grande esposizione sopra questo tema. Sì. Sicuro in università che le gusta molto la parola alle scuole questo tema. Sì. Mi hanno sopra questo tema. Pues sì. Mi gustaría hacer algo di questo e io sobra che sia Marquez. Sì, me lo... me dà la autorizzazione di fare una idea. No so, solo un libro. Io solo un libro e io fare la... Io le faccio un consello. Mi dico. No se lo lea a nadie, ni a mi, tampoco. Sì. Quando già sta il resto. Però quando già sta il resto. Ok. Lo ve quando sta il resto. Ah. Ok. Sì. È come se hace una esposa. Sì. No se ha so sin hablar. Sì. 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 Lo voglio essere il susto. Lo vedo. La sorpresa. E la camera funziona. Sì. 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 però se io lavoro, lavoro bene se io mi concentro, me innamoro della idea lo vamo a fare bene quando sono? bene, per ora non c'è il tempo però è un buon pretexto